L'Istituto Pittoni di Pagani già pronto per il rientro a scuola degli alunni dopo il via libera del governo. Non solo è no gastronomia, ospitalità alberghiera ed odonto tecnico. L'Istituto prevede un'ulteriore specializzazione nel settore della promozione commerciale e pubblicitaria e nei settori delle produzioni industriali ed artigianali, da arredi e forniture interni ad artigianato che garantiscono una solida formazione culturale di base e concrete prospettive di occupazione. La scuola si doterà presto anche di un servizio trasporto tramite autobus per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà. Siamo pronti da tanto ad accogliere i ragazzi in quanto abbiamo messo a punto tutte le norme anti-covid che dovevamo attuare. Abbiamo attuato il distanziamento, così le varie esanificazioni, i vari dispositivi di distanziamento e quant'altro. E siamo veramente pronti e li aspettiamo i nostri ragazzi perché ci mancano in ogni caso. Siamo pronti, dicevo, ad accoglierli sia nella nostra sede centrale che ospita i ragazzi dell'alberghiero e sia nella succursale dove possiamo ospitare i ragazzi iscritti al corso di odonto tecnico, sia quelli che si iscriveranno al corso di falegnameria e quindi regno e arredo e coloro i quali si iscriveranno al corso di pubblicità e marketing. Un'altra cosa abbiamo messo a disposizione dei ragazzi, nel tempo c'è stato un comitato che ha lavorato per fornire l'istituto di un pulmino, per cui i ragazzi che sono più disagiati o che vengono da posti, da zone più lontane, potranno soffrire del mezzo di trasporto che dall'anno prossimo in poi avremo a disposizione. I Open Day virtuali, i nostri docenti si stanno già impegnando, hanno avuto già contatto con le varie scuole medie del territorio, noi non possiamo far altro che promuovere queste iscrizioni perché sappiamo che offriamo una qualità proprio di contenuti e di accoglienza per i nostri ragazzi che, come dico sempre, sono sempre i nostri figli.